Finisce 84-81 per la Reier Venezia, la sfida qui a Jesolo contro la Palacanesto Trieste, una partita infinita, praticamente siamo già il giorno dopo, siamo già domenica, però abbiamo visto una partita vera, una partita intensa, due squadre che volevano vincere, due squadre già che si sono annusate, si sono spinte, sono andate a battaglia, insomma è stato un inferno per 45 minuti. Si è un inferno, una partita vera in cui ovviamente nessuna delle due contendenti voleva perdere, mi sembra ovvio, nessuno vuole perdere neanche in allenamento, però se le sono date di santa ragione, Raffaele non parliamo mai degli arbitri, diciamo che questa sera probabilmente il trio in grigio non era all'altezza, diciamo così, insomma qualche decisione soprattutto nel finale, un antisportivo l'unica che mi ricordo, ma insomma diciamo che hanno fatto virare la partita soprattutto nel punteggio, ma insomma diciamo che il punteggio vale quello che vale questa sera anche perché sono arrivate nuovamente indicazioni importanti e un segnale arrivato anche da Colby Ross, forse per la prima volta batte presente. Sì, intanto ragioniamo a tutto tondo Francesco, hai parlato degli arbitri però la cosa interessante è che in questa partita ci sono tutti gli ingredienti per una sfida di campionato, cioè una partita dura, un'avversaria tosta, intensa, un arbitraggio rivedibile, anche partita strappi se vogliamo, dove Trieste ha avuto la bravura più volte di rientrare grazie anche a Colby Ross come hai detto tu, ha dei canestri anche di Brooks, insomma tutti hanno dato il contributo e continua ad essere una macchina che viaggia a tanti cilindri, oggi diciamo forse è stato un po' meno lucido del solito Michael Brown, però gli altri hanno risposto presente, anche Johnson che ripeto sarà sempre un elemento magari messo un po' sulla graticola, ma ricordiamoci da lui non ci aspettiamo che 6-8 punti e 6-8 rimbalzi, punto, niente di più. Sì, tra l'altro è vero che c'è stato un andamento un po' ondivago sia nel punteggio sia nel rendimento di tanti dei giocatori triestini, così ovviamente come anche per quelli della Reyes, come è ovvio che sia in questa fase della pre-season, ovviamente i carichi di lavoro diversi fra le due squadre, ma comunque pesanti in questo periodo dal punto di vista atletico hanno il loro peso e ovviamente arrivare a 45 minuti a questa intensità ovviamente può anche incidere sul rendimento, però effettivamente questo andamento ondivago c'è stato da parte di tutti i giocatori in una partita così lunga, anche ci sta, insomma, Michael Brown è vero che è stato meno lucido forse nel finale, ha però tenuto a galla e anzi è stato propiziatore di quel primo tempo invece veramente fenomenale di Trieste, in cui Trieste è arrivata mi sembra una volta sui più 12, in ogni caso in doppia cifra di vantaggio. Sì e soprattutto ci sono dei giocatori che danno in una serata probabilmente non brillante anche alcuni momenti in cui aiutano la squadra con piccole cose, Gerard Jutov per esempio, tre stoppate sporcando i tiri a tre punti avversari sono stati comunque importanti nell'economia della gara, ricordiamolo sempre a onor di cronaca che Venezia aveva riposo Manford e Sims per non di firma in panchina, Trieste invece mancava di Justin Reyes e Stefano Bossi per un leggero stiramento. Sì, tra l'altro la Venezia dei tanti ex, abbiamo rivisto Alessandro Lever, il solito Lever direi, anche lui on divago ha alternato grandi cose a ingenuità clamorose, abbiamo rivisto in campo un non memorabile ritorno di Fernandez, correggimi se sbaglio, forse era bloccato comunque c'è normale, il ragazzo ovviamente deve tornare ad assaporare l'agonismo e non è semplice a questi livelli voglio dire, quindi questa è una nuova gavetta per l'argentino in Serie A. E invece una conferma ad altissimi livelli di Jordan Parks. Sì, Parks è sempre in continua scesa perché è un giocatore di temperamento, è un agonista, un giocatore che ha imparato tutto del campionato italiano e che lo sta declinando in maniera eccellente, quindi ovviamente stiamo parlando della Rager Venezia dall'altra parte e che Trieste sia stata in partita fino all'ultimo secondo, onestamente ho capito che siamo agli inizi di settembre però è un gran bel messaggio. Sì, direi terzo segnale positivo nonostante la sconfitta, è chiaro che come dice Arceri si vuole sempre vincere e si gioca per vincerle tutte, non sarà ovviamente sempre possibile per cui soprattutto quando i due punti non contano diciamo che il punteggio lascia il tempo che trova ma al di là del punteggio terzo segnale importante di quanto questa squadra, ricordiamolo con l'assenza anche di Justin Reyes che pesa in percentuale molto più delle assenze che contava la Reyes semplicemente perché la Reyes anche questa sera può contare praticamente su due squadre complete. Ti continuo a dire Reyes invece che Reyes perché ci sta, ci sta a dire un lapsus da questo punto di vista perché il nostro Reyes ovviamente incide in tutta l'economia come hai detto tu. Un'altra considerazione? Sì, tra l'altro scusami per finire su Reier, anzi su Reyes, adesso mi hai veramente mandato nel pallone per finire su Reyes proprio poco prima della partita Michael Arceri ci ha rassicurato sulle sue condizioni semplicemente una pausa prudenziale per sovraccarico di lavoro, riposo e basta. Sì, e direi per concludere che la Palacanza Trieste domani affronterà Reggio Emilia un'altra partita interessante perché è un'altra squadra più o meno dello stesso cabotaggio di De Angeli e Sochi quindi un altro test importante chiaramente ragionando nell'ottica che sono stati consumati 45 minuti a questa intensità, a questo livello quindi sicuramente la lucidità non sarà al top per Trieste però un test molto importante. Sì, Reggio Emilia che tra l'altro sembra ieri perché siamo qua praticamente da ore in questo palazzetto un po' meno surriscaldato dei due precedenti sebbene anche questo piuttosto caldino abbiamo visto insomma una partita che è volata via veramente molto veloce con una vittoria piuttosto netta di Treviso, qualcosa di più di 10 punti mi sembra 10-14 punti il distacco però veramente molto netta la differenza questa sera fra la squadra di Treviso e Reggio Emilia domani sarà però un altro banco di prova diverso da quelli a cui abbiamo sentito finora Assolutamente sì, diamo appuntamento ai nostri tifosi ovviamente anche per il post partita Certo, quindi appuntamento con Tripla On The Road con Francesco Freni e Raffaele Baldini Buonanotte, ciao